Te l'ho detto prima nel cuore onda e te lo devo dire anche in diretta Soltanto di questo si può parlare E la me la dico io, qual è il problema? Si tratta di capire quando arriverà questo plage Anche dalle sedi di mercato, dal Lilton, dal cuore di Milano La notizia più importante è arrivata a Sport Italia Torna sul canale 60 del Digitale Terrestre Per vivere insieme tutte le operazioni di mercato Ma non solo, lo sport è a 360 gradi